Siamo all'1.204. Senatore Perluto, prego, un minuto. Grazie. Dichiarazione di voto in distenso dal gruppo. Io invece, insieme alla senatrice Porretti, voteremo a favore di questo emendamento, che non soltanto perché l'abbiamo confirmato, ma perché trae l'infa e origine da un disegno di legge presentato già nel 1991. È, tra l'altro, una delle migliori risposte da dare alla piazza, che in qualche modo può organizzare il proprio, diciamo, sfavore o la propria sfiducia nei confronti del Parlamento, votando scheda bianca, sapendo che tante schede bianche saranno conteggiate, quanti numeri di seggi saranno tolti in entrambe le Camere. E quindi per questo voteremo convintamente a favore, pigiando più forte il bottone in questi pochi secondi che ci sono dati di tempo, visto e considerato che le parole non servono più a nulla in quest'Aula. Grazie. Grazie.